Permesso? Permesso? Scusi, permette? Senti, capo, so scivolata all'undici in coppa una buccia e mila, migliacchi, qualche anima perversa sarà stata, perciò mi ho fatto tardi a mani qua. Capo, espongo i fatti subito, se è tardi e questo ufficio addanzerà un attimo solo e poi a man mangià, dunque dicevo, spiegomi, schzecchiavo, che in italiano intende si pioveva fino fino, schzecchiavo, ed io giravo l'angolo del vicolo del vino, quando nell'aria una pernaccia sente si, pernaccia suona acustico, si mette la mano sulla bocca e... Salute, figli mascoli! Grazie, capo, ma che c'entra, figli mascoli e salute? Io sono solo, come fate, figli mascoli a me dà? Schzecchiavo, mi fanno un suono acustico e voi senza un perché mi dite fate presto e faccia presto, ok, se non vi spiego fatte voi non credete che... schzecchiavo! Capo, è stato proprio all'angolo che sto caduto a terra, debbo venire al soldo? E questo è il soldo? Ehi, voi non mi ha dato tempo e mi spiega? Capo, so scivolato all'undici, che dite? Sto abusando la bocca? No, non ho mai abusato, io ho sempre un'età, dunque, dicevo, spiegomi, schzecchiavo, che in italiano intende si chiuveva fine, fine... schzecchiavo! Non faccio manco a mettermi di nuovo sul cammino quando nell'aria un altro suono acustico, ma forte, prego credervi, duecento mani sulla bocca e... che dite? Tutto ha un limite, ma che c'entra, uscite fuori, questo intende si cacciare, io protesto anche per l'ora che è passata per mangiare, schzecchiavo! Io sono voce pubblica, e voi senza un perché, voi mi mostrate l'uscio e il manavago, ok? Voi mi dovete sentere, se no se fanno tre! Cosa dite di tornare dopo pranzo, quando ho messo apposta la panza? E va bene, tornerò! Voi chiudete? Vuol dire che vi spiego fatto, com'è andato, vuol spiegare... Capo, mia sarija, capo, schzecchiavo, capo, mi dovete credere, schzecchiavo! La boccia c'era, mi dovete credere, pioveva!